buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a fortnite oggi parliamo dei personaggi presenti in questo capitolo 4 stagione 4 ma prima di cominciare con il video di oggi vi ricordo che se raggiungiamo 50 like al video e i mille iscritti al canale starò tra uno di voi e regalerò questa fantastica skin sagan da 800 vbac quindi mi raccomando scrivete nei commenti il vostro account e se raggiungiamo i 50 like e mille iscritti univo e ricerà questa fantastica skin dunque nolan change e antonia si trovano nello stesso identico posto a distese deliranti eccoli qui li trovate in questa zona poi abbiamo il secondo personaggio p per pace che si trova a sponde schiappose eccola qui che chi dà la mitaglietta pesce herculeo se lo troviamo qua in basso a sinistra vicino al cavo poi abbiamo cabileim che è qua quasi centro mappa centro destra poi abbiamo miaoscolo che è sotto ormeggi ombrosi eccolo qui agente banana la troviamo a destra di fontane fonti fatue eccolo qui poi abbiamo ombra rinnegata vicino a lastre lucide in basso poi c'è ranger dell'amore eccolo qui a rovine poi abbiamo assassina artica che sicuramente è qua dove c'è la neve viva diamantina che qui in basso vicino a me anzi a mega city in basso mega city poi abbiamo contessa d'araku che si trova vicino anzi a destra del cavo poi abbiamo beast mode che è a baia bombardiere reale che è a bastione brutale eccolo qui squalo toro che è centro mappa a recinto e l'ultima soccorso in corsia e soccorso in corsa sotto opulenza quindi fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi condivetevi il video e noi ci vediamo al prossimo ciao